ricordo appunto appuntamento con le storie c'è un altro appuntamento che in programma tra pochi giorni il 19 con miriam messina e anche lì lei potrà raccontare le sue storie che sono le storie di tante storie perché miriam messina per tutto il 2020 tutto il periodo della chiusura non ha fatto altro che parlare e presentare autori artisti nuovi esordienti già affermati già presenti sul mercato italiano li ha incontrati li ha presentati ha parlato con loro gli si è fatta raccontare la loro storia e il 19 alla stessa ora di oggi racconterà queste storie la storia di miriam messina in realtà una storia di tante storie